Permanente, vi ricordo che siamo in diretta streaming sul nostro sito e che l'audio video è previsto in sala stampa per i giornalisti che ci stanno seguendo. Io darei senza indugio la parola al Presidente Sangalli per presentare il Presidente Grasso. Prego Presidente Sangalli. A nome di tutta la ConfCommercio, benvenuto al Presidente Grasso a questo Consiglio Generale Speciale. ConfCommercio, caro Presidente, è la più grande associazione di impresa d'Europa e rappresenta il terziario di mercato, un settore complesso che va dal commercio ai servizi, dal turismo alla logistica, dai trasporti alle professioni. Consiglio Generale Speciale, ho detto, un Consiglio che oggi ha un duplice obiettivo, dialogo e ascolti. Il dialogo tra la politica e le rappresentanze d'impresa ha una funzione insostituibile nelle democrazie moderne e rappresenta un elemento indispensabile di coesione sociale. E poi ascolto, perché siamo qui oggi per sentire le proposte, i programmi, le idee dei partiti che si candidano a guidare il Paese. Le prossime elezioni e la nuova legislatura saranno decisive per proseguire il percorso delle riforme già avviato. Da qui l'importanza di andare a votare, di esercitare il diritto dovere di una consapevole e di informata partecipazione democratica. Un segnale forte e chiaro di riavvicinamento dei cittadini all'istituzione. Proprio per questo abbiamo ritenuto utile, come i cofcommercio, organizzare questi incontri ed elaborare un documento dal titolo, un tema, una proposta, le priorità delle imprese del terziario per la prossima legislatura. E con questo documento noi vogliamo evidenziare i temi chiave, le misure per noi decisive, per una crescita più sostenuta e per creare condizioni di mercato più favorevoli per la competitività delle imprese, del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti, della logistica, delle professioni. Va scongiurato il rischio di una fase di stallo e di ingovernabilità, perché ne farebbero le spese, le imprese e le famiglie che proprio ora stanno toccando con mano qualche segnale di ripresa, seppur fragile. E non c'è tempo da perdere. Già ad aprile, infatti, va presentato il DEF, nel quale devono comparire precise indicazioni sulla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia per non far scattare l'aumento dell'IVA nel 2019. Un paese senza spade di damocri dal debito pubblico alle clausole di salvaguardia che gravano sul suo futuro è un paese dove si può crescere. Vale per le imprese, vale per i cittadini. Penso ai giovani che sono un tema caro al Presidente Graff, sono la risorsa fondamentale per il presente e per il futuro del nostro paese, una risorsa che va valorizzata con il sostegno all'occupazione, alla formazione, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ma anche alla creazione di nuova impresa. La disoccupazione giovanina nel 2017 si è attestata in media intorno al 35%, un valore ancora troppo elevato, ma che negli ultimi mesi dello scorso anno ha mostrato una tendenza alla diminuzione. Proprio il settore, caro Presidente, che noi rappresentiamo, il terziario di mercato, crea ogni giorno nuova occupazione ed è la scelta di tantissimi ragazzi che decidono di mettersi in proprio e di affrontare la sfida di fare impresa, una scelta che coinvolge anche tanti giovani stranieri in regola in un percorso di reale integrazione e cittadinanza attiva. Alle scelte coraggiosi di questi ragazzi più difficili rispetto alle stesse scelte che 30 anni fa hanno fatto i loro padri, dobbiamo rispondere con un Paese migliore. Siamo convinti che questa priorità, che nel nostro documento, sia una piattaforma politica che incontra la sua sensibilità e la sua attenzione. E siamo pronti, caro Presidente, ad ascoltarla. Grazie. Grazie per questo incontro che è veramente importante, purtroppo è stato ritardato da qualche presenza che è arrivata dopo il previsto e io ho dovuto fare dei giri per evitare che le nostre scorte potessero ingaggiare una qualche... E quindi ho atteso che pazientemente, che appunto lo spettacolo finisse e poi adesso incomincio a parlare io e ringrazio il Presidente Sangalli per questa opportunità e ringrazio anche tutti coloro che ci ascoltano. So che ben 92 centri della ConfCommercio sono collegati in streaming e saluto tutti quanti oltre a voi. Allora io non sono abituato agli showroom, sono una persona completa che cerca di affrontare, secondo i metodi che sono stati nella propria vita delle linee guida per andare avanti, cioè intanto ascoltare, analizzare i problemi, ascoltare, riflettere e poi decidere. Questo è un metodo che fa parte della mia persona e quindi non sarò capace certamente di suggestioni, di cose fantasiose, di sparare le cose più grosse che qui si possono dire in questo momento di campagna elettorale. Io vorrei dire, incominciare con una domanda, da dove riparte l'Italia? Ecco questa è una bellissima domanda perché bisogna a questo dare risposte. E allora come si costruisce il benessere che aiuta le imprese, le famiglie, il commercio, i lavoratori, le giovani e le coppie che devono intraprendere una vita? E beh io penso che questa sia la domanda, l'unica domanda che deve interessare una forza politica e le forze politiche che oggi sono in campo. Vede, alcuni fanno proposte roboanti che sono però o inattuabili o mortificano quei centi medi o bassi che sono il cuore del nostro paese. La nostra democrazia e la nostra economia hanno prosperato quando il paese cresceva e la ricchezza veniva redistribuita. Troppe diseguaglianze sono nocive per il paese, creano tensioni sociali, sono un'ingiustizia che danneggia il tessuto sociale del quale il commercio è parte integrante. E quindi crescita, lavoro stabile, reddito, solo con un lavoro buono e stabile si sostiene la domanda interna, quella che a mio avviso manca da questa ripresa. E con voi vorrei parlare proprio di questo, prima di soffermarmi su alcune delle questioni che immagino mi stiano più a cuore. Io intanto faccio i complimenti per la qualità del materiale che avete prodotto. Su alcune cose certamente è normale, ci troveremo in disaccordo, ma penso che una grande categoria e una grande organizzazione come la vostra debba fare esattamente questo, cioè produrre conoscenza per mettere il decisore pubblico in condizioni di migliorare il proprio punto di vista, confrontandosi con un livello alto di proposte e soprattutto chiaro nei contenuti. E quindi questa vostra iniziativa è la benvenuta perché, ecco, attraverso questo materiale è già iniziato questo ascolto. Mi porteremo, appunto se non farò uno show, ma per strappare l'applauso manterrò uno stile sobrio che mi è più congeniale. Con la franchezza che vi è dovuta dirò chiaramente su cosa sono d'accordo con voi e su cosa no. Però prima di procedere e per seguire il vostro documento io credo che sia necessario cominciare a guardare un attimo l'Italia. L'Italia è il momento che sta vivendo. Io concordo con voi nel leggere che le insidie del prossimo futuro sono, come affermate, ci sono e la ripresa è soggetta a tutte le fragilità strutturali che l'economia italiana non ha ancora risolto. E per noi, liberi e uguali, quali sono queste fragilità? Beh, una crescita orientata troppo all'export, compressione salariale, bassa produttività, precarietà lavorativa, il perdurare della crisi in ampia area del paese, in primo luogo il sud, il mezzogiorno, la mancanza di innovazione nell'azione della pubblica amministrazione, l'assenza di una politica di sviluppo concertata tra attori pubblici e privati, sui settori piavi del manifatturiero, ma anche per gli asset fondamentali del turismo e dell'agricoltura. Infine, una scarsa crescita della domanda interna. C'è una ripresa europea, è vero, che però vede l'Italia all'ultimo posto tra i paesi dell'Unione come previsione di crescita del PIL nei prossimi due anni. Una ripresa che, come già ha detto il Presidente Sangali, sarà messa a dura prova quando il quantità di leasing della Banca Centrale Europea smetterà di irrorare le economie europee e soprattutto nel caso italiano. Già oggi, come giustamente emerge dal vostro paper, il credito verso le imprese non è stato certamente sufficiente. Immaginiamo cosa accadrà dopo il 2019. E quindi su questo io credo che occorra intervenire. Parliamo innanzitutto delle piccole e delle piccolissime imprese, quelle che appaiono più colpite dalla stretta del credito, quelle che non vivono di export e che sono molte, la gran parte io credo di quelle imprese che voi rappresentate. E allora dobbiamo lavorare per fare in modo che il rapporto tra le banche e il mondo delle imprese in generale sia più trasparente, ma allo stesso modo più efficace dal punto di vista del sostegno a quelle imprese che investono, che ci provano. Io concordo sulla necessità di coinvolgere negli incentivi all'innovazione anche quelle imprese che non hanno dimensioni tali da avere un progetto di adeguamento proprio all'evoluzione tecnologica. Dobbiamo quindi cercare di colmare quel dualismo tra imprese che corrono e quelle che sopravvivono. E in questo lo Stato e gli enti locali possono svolgere una funzione, vincolando gli incentivi a scelte virtuose. Noi pensiamo per esempio al risparmio energetico, alla minor produzione dei rifiuti, alla ricerca e attraverso l'offerta di sempre maggiori servizi alle imprese. In alcune regioni virtuose questo compito è svolto da agenzie nelle quali il pubblico e il privato lavorano assieme. E allora cosa dobbiamo fare in questa diciottesima legislatura? Beh, per noi economia e consumi si rilanciano diminuendo le diseguaglianze. A meno che, perdonatemi la battuta, non si creda di poter sostenere la crescita di questo Paese unicamente basandosi sull'isciolum del lusso, che pure sostengono un segmento importante della nostra economia. Allora fatemi scomodare il vecchio Ford. Bisogna tornare a sostenere che l'operario che produce un'automobile deve ricevere un salario sufficientemente alto da poterlo acquistare. Oggi dovremmo citare altre decine e decine di figure lavorative e non solo e non più l'operario della vecchia fabbrica. Ma spero di avervi reso con chiarezza qual è il nocciolo della questione, secondo noi. Per sostenere la domanda interna, i salari servono certamente maggiori sicurezze e tutele e ho capito che su questo non siamo d'accordo. Nel senso che noi di Liberi Uguali auspichiamo la reintroduzione di quell'articolo 18 che è stato abolito dal Jobs Act proprio per garantire quelle tutele e certezze sul futuro ai lavoratori precari. Una parentesi prima di parlare di lavoro. Il lavoro si sostiene anche ricostruendo il tessuto sociale e commerciale nei nostri centri storici nelle nostre città e quindi condivido in pieno la vostra proposta di garantire affitti agevolati di locali di proprietà comunale a imprese di giovani e start-up, così come la proposta del recupero, di regolificazione e valorizzazione dei volumi esistenti, aree dismesse, sottotetti, seminterrati, anche nel centro storico, soprattutto nell'ottica di azzeramento del consumo di nuovo suono. Allora liberiamo questo patrimonio. Sui centri urbani forse va fatto un ragionamento relativo alla creazione di un'agenzia per le politiche urbane che aiuti a investire nell'idea di Italia dei comuni che noi abbiamo e siamo quindi d'accordo sulla necessità assoluta di intervenire per rammendare e curare territorio e città, come abbiamo scritto anche noi in maniera esplicita nel nostro programma. Al tempo stesso trovate in noi un alleato entusiasta sul punto 14 del vostro paper, la crescita sostenibile, strategie integrate tra pubblico e privato, nuove politiche della mobilità sostenibile, sviluppo delle opportunità offerte dalla digitalizzazione. Torniamo un attimo al tema del lavoro, alcuni dati io li voglio sottolineare, nel 2017 per un posto di lavoro creato a tempo indeterminato 9 sono a termine, questi sono i dati dell'Istat. L'Istat segnala anche il boom dei lavori brevi da 3 mesi o addirittura meno. Ebbene questa ripresa ha il volto dei lavoratori a termine, dei lavoratori precari. Solo un italiano su 5 ha un lavoro dipendente a tempo indeterminato, il 19,1% degli uomini e il 6,5% delle donne lavora part time perché è obbligato, non è una scelta. Nel part time involontario siamo al doppio della media europea. Queste persone lavorano e guadagnano meno di quel che vorrebbero e di cui hanno bisogno. Poi c'è l'aumento delle povertà, delle difficoltà di molte famiglie italiane. A luglio scorso è salito l'indice di disagio sociale, il miser index di confi commerci, la soglia di povertà. questo danneggia tutti. Il lavoro o è buono o non permette la crescita dell'intero sistema economico. Una parola in più però la vorrei spendere per il mezzogiorno. Io sono un figlio del Sud, quindi è un argomento che mi sta molto a cuore. In questa campagna elettorale ho potuto constatare che si parla poco o male del mezzogiorno. E per troppo tempo le classi dirigenti di questo paese ne hanno fatto soltanto uno strumento di clientele, di relazioni particolari, di piani sciagurati, di posti dove si devono distribuire i consumi prodotti al nord, di posti da chiamare alle armi quando è il momento di votare. Giorni fa la Commissione europea ha presentato a Bruxelles un progetto per un piano di investimenti in infrastrutture sociali. Anche quello è un terreno su cui lavorare e su cui l'Europa sembra decisa a investire risorse, ma queste risorse andranno utilizzate bene. Per bene io intendo che non bisogna farle finire in comitati di affari che spesso non realizzano le cose che sono utili per la comunità, perché queste risorse non servano ad alimentare clientele o sprechi. Io qualche volta penso che forse è meglio una regia, soprattutto per alcune regioni del sud, una regia centrale nel controllo di queste risorse o nel piano per distribuire queste risorse. Il nostro obiettivo è quello certamente di potenziare le infrastrutture del sud, ne parlate anche voi nel vostro documento. Bisogna favorire in tutti i modi la crescita del turismo e dell'agricoltura in queste aree del paese. Noi abbiamo un paese che non solo il mezzogiorno, ma tutto il nostro paese è un museo all'aperto, un'area culturale dove bisognerebbe che qualsiasi cittadino del mondo desiderasse di venire nel momento in cui pensa di fare una vacanza. E quindi cultura, turismo, agricoltura, soprattutto al sud per tutte quelle aree ancora non sviluppate, io penso che siano il punto focale, prioritario di quella che deve essere una politica di sviluppo. Abbiamo bisogno di investimenti pubblici che restituiscono lavoro e dignità ai giovani, alle donne, agli uomini. E a proposito di giovani voi dite investire di più, sì. Ebbene quando noi abbiamo lanciato l'idea di abolire le tasse universitarie, investire in formazione e diritto dallo studio, abbiamo parlato con uno slogan di un diritto universale dalla culla all'università, ma questo noi diciamo esattamente la stessa cosa usando strumenti diversi. La formazione delle giovani generazioni deve aumentare in qualità e quantità per poter stare al passo con i paesi con i quali spesso siamo chiamati a confrontarci. E allora non bisogna avere paura di parlare di investimenti pubblici. Io ricordo quella clausola Ciampi che disponeva che il 45% degli investimenti pubblici fossero rivolti al mezzogiorno. L'investimento pubblico per il mezzogiorno è notevolmente calato, soprattutto rispetto e in proporzione agli investimenti fatti al nord. A differenza che in passato, quindi ribadisco che su questi fondi bisogna vigilare. Per farlo serve una presenza e un ruolo forte dello Stato. Non ci serve una nuova cassa per il mezzogiorno, chiediamolo. Ci serve però un'attenzione perché ci sono delle infrastrutture che devono essere utili per lo sviluppo per quei settori come il turismo, l'arte, la cultura e l'agricoltura che possono essere alla base di uno sviluppo sostenibile in quel mezzogiorno. Una presenza che non avremmo se passasse la curiosa proposta della flat tax. Penso che vi sia stata illustrata forse poco prima. Ma è un modello fiscale che è utilizzato in Polonia, Estonia, Lituania, in Russia. Non c'è un singolo paese del blocco occidentale che l'abbia presa sul segno. La desertificazione delle entrate fiscali che ne deriverebbe porterebbe a privare lo Stato di qualsiasi capacità di investimento strategico. Volete un piano per il turismo che investa nei porti del meridione, per esempio favorendo turismo e commercio? Beh, scordatevelo, la flat tax mette in dubbio le fondamenta dello Stato sociale, come quelle della sanità che sono già gravemente a rischio. Io penso che a voi interessi più garantire diritti e sostegno a un commerciante che si ammala e che oggi purtroppo non ha questo sostegno, piuttosto che il contrario. La proposta di flat tax avanzata con diverse percentuali da Berlusconi e Salvini si fonda sull'assunto che l'evasione in Italia sia alta a causa dell'alta pressione fiscale. La pressione fiscale è alta, siamo d'accordo su questo, ma è alta perché in troppi non pagano le imposte dovute. Mi limito a dare un numero, a causa dell'aggiramento da parte di Google e Facebook delle norme sui profitti, l'Italia nel periodo 2013-2015 avrebbe perso 549 milioni di euro di tasse. Una enormità e lo dice uno studio del settembre 2017 generalizzato da Paul Tang, un eurodeputato socialista. Vengo quindi al nocciolo della questione. Imposte più basse non assicurano certamente una maggiore fedeltà fiscale. Lo dimostra il caso Apple, la cui corporate tax più bassa d'Europa, quella irlandese del 12,5%, non è bastata a convincere a pagare il dovuto, visto che ha provato a pagare lo 0,003%. E dico di più, la mancata fedeltà fiscale da parte di queste multinazionali costituisce un enorme vantaggio competitivo a danno delle altre e delle nostre imprese. Si è discusso e si discute di web tax e su questo leggendo il vostro documento siamo tutti d'accordo sulla web tax. Però la web tax di Renzi non credo che sia andata nella giusta direzione per tre ragioni. In primo luogo il 3% è una liquota fissa troppo bassa. In secondo luogo questa legge non si applicherà all'e-commerce e ai suoi colossi come Amazon. In terzo luogo non so se ve li siete accorti, in virtù di questo provvedimento i ricavi delle imprese digitali residenti in Italia saranno sottoposti non solo al nuovo tributo ma anche alle altre imposte dirette con le aliquote di gente in Italia con un ordine di imposta effettivo più elevato e questo era per favorire le nostre imprese come ha potuto segnalare l'ufficio parlamentare di bilancio. Non so perché è stato inserito questo emendamento alla Camera che ha provocato queste impreviste soluzioni che hanno finito col danneggiare le imprese digitali italiane. Noi di liberi e uguali ci impegneremo invece per eliminare una tassa fra le più odiose, una tassa che paghiamo tutti senza accorgersene, una tassa che strangola il paese e della quale in campagna elettorale non parla nessuno. La mafia tax, il costo dell'illegalità. Gli strumenti per intervenire sull'economia criminale possono essere migliorati, ce n'è ma in ogni caso mi pare che manchi questa volontà politica proprio per il fatto che non viene assolutamente preso in considerazione questo elemento che invece è sempre stato alla vostra attenzione. Io sono venuto qui a presenziare il premio Libero Grassi che appunto è un premio istituito da voi e che è veramente meritorio. Gli strumenti per intervenire sull'economia criminale possono essere certamente migliorati, l'abbiamo detto. La strada è ancora lunga per eserradicare quella che è al tempo stesso un'emergenza criminale ma anche un'emergenza morale. Occorrerebbe ad esempio intervenire sulla tracciabilità dei pagamenti per contrastare i reati di corruzione, di riciclaggio attraverso la reintroduzione di una soglia più bassa dell'uso del contanto, effettuare controlli più efficaci, semplificare le normative, serve una maggiore trasparenza nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, prevedere e applicare sanzioni effettive, credibili da parte di forze dell'ordine ma di statura con tempi certi. Possiamo discutere certamente della sua attuazione e delle modalità ma idealmente la strada del futuro può essere come avviene già in tanti paesi l'abolizione del contante. Tanto per combattere l'evasione fiscale quanto per contrastare l'economia criminale. So che è una strada che in Italia ha avuto invece un percorso al contrario, nel senso che eravamo arrivati a 1000 euro, è arrivato Renzi che l'ha portata a 3000 euro, poi adesso Salvini non vuole nessun limite. Quindi voglio dire ci sarà un motivo. Quello che vogliamo non è solo uno Stato che reprime il crimine ma una comunità che previene alla radice le condizioni su cui prospera il malaffare, che sottrae il bene comune e le risorse di tutti. Naturalmente anche la politica deve cambiare e noi vogliamo portare questo cambiamento fatto di moralità, di legalità, di rispetto delle regole. Vedete la legalità, l'onestà noi non la odiamo nelle piazze ma la realizziamo ogni giorno con i comportamenti, con le nostre azioni. permettetemi quindi ancora una volta di esprimere un sincero apprezzamento per il premio Libero Grassi, questo concorso cui contribuisce fin dal 2009 ConfCommercio e che giunge quest'anno alla quattordicesima edizione. È davvero un bel traguardo. Guardate, costruire cittadinanza in una società divisa, arrabbiata, impoverita non è impresa da poco. Guerra, terrorismo, razzismo, mafie rischiano di minare la ricchezza sociale del nostro paese e iniziative come quella dedicata a Libero Grassi a mio avviso rinsaldano i legami di solidarietà, i legami della comunità e la virtù in questo particolare momento storico consiste nel costruire ponti, non nel distruggerli, non fare qualcosa contro ma nel farlo insieme. E siate dunque orgogliosi, molto orgogliosi di questa iniziativa. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti. Procuratore nazionale antimafia, le problematiche legate ai fenomeni criminali che incontrano tutti i giorni i nostri imprenditori per tenere viva la loro attività. Pochi mesi fa, proprio lei a Trame, al festival di libri sulla mafia, la mezza terme, ha firmato, abbiamo fatto anche una foto insieme, una, appunto Trame, una delle nostre iniziative che è la Conscommercio, che mi permetto di dire è l'unica associazione di categoria che tanto si spende per diffondere la cultura della legalità così con orgoglio ed entusiasmo. Proprio lei ha firmato il nostro manifesto per la legalità e la sicurezza, che noi orgogliosamente abbiamo chiamato io non ho paura di fare impresa. Allora io le chiedo unilmente che cosa pensa si possa fare concretamente per consentire agli imprenditori di svolgere la propria attività nella legalità e nella sicurezza, nella sicurezza per se stessi, per i dipendenti, per i clienti e anche per di bene nella collettività. Grazie. Ce n'è un'altra rapida di Pellini e poi diamo la parola al Presidente Cassi. Signor Presidente, il Giovat ha introdotto importanti novità in materia di lavoro, che per il nostro mondo e il mondo delle imprese sono mai prescindibili. Penso alla flessibilità del lavoro, alla riforma degli ammortizzatori sociali e al bilanciamento delle critiche attive e passive. Per quali motivi voi, i liberi linguali, siete favoribili all'abolizione di questo strumento e qual è il vostro modello di riferimento? Grazie. Prego Presidente, grazie. Allora, io mi onoro di aver messo quella firma, quel progetto, io non ho paura di fare impresa anche perché da quel documento, da quello studio c'è tanto da imparare e da apprendere perché viene messo in risalto appunto quella che sono tutte le espressioni dell'economia criminale, quindi a incominciare da qualcosa che magari non ci aspettiamo come l'abusivismo, poi la contraffazione, le estorsioni, l'usura, furti, rapine, tutte queste attività che sottraggono al commercio, agli alberghi, ai pubblici esercizi una somma che nessuno si immagina e che voi stessi avete stimato in 27 miliardi di euro, ricordo ancora, ci ha impressionato la vostra stima, mettendo a rischio 260 mila posti di lavoro regolari, perché anche il lavoro nero o l'encomafia o il riciclo dei rifiuti fanno parte di questa economia criminale che toglie alla legalità e toglie ai posti di lavoro regolari. Bene, io penso che la repressione delle attività illegali che naturalmente può avvenire soltanto se tanti di questi reati vengono segnalati con denunce all'autorità giudiziaria. Adesso io sono stato uno di coloro che nel lontano 2004 ha favorito la nascita di Addio Pizzo, proprio come un'associazione che possa essere di aiuto a tutti coloro che subiscono questa pratica, per cui oggi è ancora più grave il momento in cui un commerciante che fa fatica ad andare avanti con tutte quelle che sono le problematiche del settore poi debba pure pagare il pizzo. E quindi certamente una collaborazione da parte dei commercianti, dei cittadini è indispensabile e poi occorre come spesso succede che voi stessi segnaliate situazioni particolari e cose che fate e appoggio a chi ha denunciato. Serve soprattutto una magistratura e forze di polizia giudiziaria che siano rapide nell'accertamento e rapide anche nell'emettere delle sentenze. Io ricordo ancora che a Palermo, dopo un certo periodo di tempo di questa cura, nelle intercettazioni telefoniche si sentivano due che parlavano, ci senti, lascia perdere, non ci andiamo da quello perché è uno che ha contatti con il commercio e quindi è meglio che non ci andiamo perché rischiamo. Ormai le pene sono gravi perché per un'estorsione di 500 euro arrivavano con danni anche a 7 anni. Per cui si era persa l'opportunità, si era persa il valore, si era dato minor spinta criminale a quella che era un'attività che invece se non c'è nessun controllo, non c'è nessuna collaborazione viene svolta in maniera regolare, normale, come una normale esazione. Quindi è importante che ci sia tutto questo contesto che lavori all'uniso in sinergia e in armonia per poter riuscire a combattere questi fenomeni e quindi l'opera meritoria di conscommercio è ovunque riconosciuta in questo campo. Andiamo al Jobs Act, questo è un tema certamente importante e per noi qualificante perché innanzitutto il Jobs Act ha eliminato quell'articolo 18 che dà tutela e dignità al lavoratore nel senso che lo tutela da licenziamenti che non hanno una giusta causa, una cosa che per anni e anni è stata una punta di diamante di quello che è lo statuto dei lavoratori e questa eliminazione, io ho parlato con tanti imprenditori, non so forse erano imprenditori, ma io non ho mai licenziato nessuno se non ci fosse stata veramente una causa giusta, quindi voglio dire c'è un'etica imprenditoriale che forse non ha bisogno di quell'articolo 18, questo l'ho potuto riscontrare personalmente, quindi che ci sia o non ci sia per molti imprenditori può anche essere ininfluente, però cosa succede? Che il Jobs Act ha prodotto un lavoro precario, abbiamo visto i dati dell'Istat, non sono dati miei, che un lavoratore su dieci ha un contratto a tempo determinato e gli altri hanno tutti i contratti più brevi, io ho incontrato un imprenditore che allargandomi le braccia mi ha detto sono scaduti i disgravi fiscali del Jobs Act, io il 31 dicembre del 2017 devo licenziare 150 giovani che avevo assunto perché purtroppo senza i disgravi fiscali non li posso più tenere in azienda, questo significa che quei giovani, quei ragazzi non potevano col lavoro immaginare o costruirsi un futuro, non potevano proiettarsi nella società, non potevano pensare di sposare la ragazza a cui volevano prendere, di crearsi una casa, una famiglia, avere un mutuo, potere costruire il futuro. Allora per noi il lavoro deve essere buono come dico io, ma nel senso di essere stabile e sicuro, il più possibile. Naturalmente ci sono una serie di lavori che devono per forza essere a termine, però i lavori stagionali, per carità nessuno può pretendere che il lavoro sia a tempo indeterminato, ma ci devono essere una causale che viene a giustificare il contratto a tempo determinato. Quindi questa è la nostra posizione che è di tutela e dignità del lavoro, ma anche quegli sgravi che sono serviti ad assumere quei giovani, che ammontano a qualcosa come 6 miliardi l'anno, 18 miliardi in 3 anni, credo, 18-20 miliardi in 3 anni, io forse pensando a una politica diversa le avrei impiegate per strutture o lavori che potessero dare un investimento strutturale e non precario, perché finito lo sgravio non hai risolto il problema. È come il bonus bebè, se tu dai un bonus, sì puoi comprare i pannolini, però poi il bonus finisce e il bebè ti rimane. Allora il discorso è un discorso di politiche, un discorso di politiche che devono essere strutturali per creare lavoro stabile, il più possibile chiaramente. Mentre se si va con l'idea del bonus, del precariato e di tutto quello, quindi noi puntiamo sul lavoro stabile, sull'innovazione, sulla formazione, sugli investimenti e sulle tutele dell'innovazione.